ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale oggi ho portato dei video davvero interessanti ma come al solito prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo subito nel primo filmato alcune ragazze si riprendono con la loro telecamera sembra che ad un certo punto una strana entità si manifesti alle spalle delle ragazze una di loro se ne accorge e non può far altro che urlare terrorizzata dalla paura il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento il video seguente mostra una casa abbandonata secondo i precedenti proprietari la casa sarebbe infestata da uno spirito maligno durante il filmato la telecamera inquadra una finestra dell'edificio ed è proprio a questo punto che viene ripresa l'entità maligna che occupa la casa il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento grazie a tutti questa foto è stata scattata da un uomo colombiano di nome fernandez scattata la foto l'uomo si accorge di aver fotografato non solo sua moglie ma qualcos'altro di inquietante che si manifesta proprio alle spalle della donna il proprietario di questo cane nota che l'animale continua ad abbaiare vicino alla finestra come se sbirciatina alla finestra ciò che vede però lo terrorizza a morte questo è ciò che è stato filmato cosa che si sta ripassando di questo non ergo può essere effettuato che non faфire che ne sta ripassando che ne sta ripassando è solo qui scherzo è il il un esploratore urbano entra in una casa abbandonata immediatamente l'esploratore si trova di fronte a una creatura sconosciuta il video è davvero impressionante questo è ciò che è stato filmato il video seguente è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata su di una strada il filmato mostra l'apparizione di uno spirito mentre passeggia sul ciglio della strada una guardia di sicurezza durante un giro di routing in un ospedale in un reparto dove non ci sono pazienti sente uno strano lamento la guardia tenta di capire da dove provenga ma non trova nulla di strano il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento un campeggiatore durante una passeggiata notturna in un bosco fa un incontro davvero spaventoso il campeggiatore si ritrova di fronte a una strana creatura che non sembra avere buone intenzioni il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento il video è davvero Hello? What are you? e anche per oggi è tutto ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati dopo quest'ultimo brivido io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao ciao